Mi sento fantastico, perché non sono lontano dall'Italia e non mi sento a casa perché è il Marocco, ma mi sento bello, perché giocheremo il più grande gioco di mai, dopo la Finale della Champions League e siamo concentrati per questo gioco. Non so molto di loro, oggi abbiamo fatto vedere alcuni video, ma domani, dopo domani, vedremo più video. Se sono qui, significa qualcosa. Sono un club tipico di Sud America. Se sono qui, significa che sono una buona squadra, una squadra forte, dovremmo essere concentrati. Io spiego contro il squadro mexicano, ma vedo contro il squadro sud americano, vedo il stile del gioco. Non sarà facile, perché sono aggressivi, hanno esperienza e anche le skills. Ma se si giocheremo come vediamo, credo che possiamo ottenere un risultato. Credo che l'altra squadra dovrebbero essere felice, perché giocheremo contro il migliorno team in Asia. E loro dovrebbero essere felice. Siamo giocheremo come la prima squadra in Asia e per loro non sarà facile da giocheremo contro noi. Grazie. 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 Grazie.